Benvenuti nel mondo BrillBird, sono Melania Alessandrella, International Mastering Gator. BrillBird ha creato un nuovo Futur Gel, un gel rivoluzionario per ricostruzioni più leggere dall'aspetto più naturale. È un prodotto che rompe ogni schema in quanto il suo specifico utilizzo vi permette di creare delle coperture e anche delle ricostruzioni con estrema facilità e anche alta definizione. È un prodotto più leggero, sia dei gel tradizionali ma anche dell'acrilico stesso. Infatti Futur Gel ha un'ottima adesione e resistenza una volta indossato. Futur Gel è disponibile in tre colorazioni, clear, white e cover pink. Per poterlo utilizzare abbiamo bisogno solamente di una spatola e di un pennello con setole naturali. Scopriamo insieme l'utilizzo del metodo di applicazione su tip. Andiamo a scoprire insieme la sua viscosità. Possiamo vedere la sua altissima viscosità. In questo caso alta viscosità per cover pink e clear, media viscosità per l'ultra white. Applichiamo il cover pink. Notate la sua alta viscosità, è un prodotto che non cola. Andiamo ad applicare la nostra perla direttamente su tip. Dopodiché utilizziamo il pennello Smiley Line, un pennello composto da setole naturali che ci permette di muovere e gestire il prodotto con estrema facilità. Utilizziamo il cleaner, andiamo a tamponare sul pad e iniziamo a lavorare il nostro Futur Gel. In questo modo andiamo a sfumare il prodotto con movimenti leggeri. Quando risulterà leggermente appiccicoso andiamo di nuovo a inserire il pennello sul cleaner e scaricare l'eccesso di cleaner e di nuovo rimodellare la superficie. Definiamo il muretto del cover e andremo a polimerizzare per circa due minuti in lampada UV. Una volta polimerizzato rilascia un leggero strato di inibizione ossidativo. Potete vedere anche la sua definizione senza aver utilizzato la lima. Adesso proseguiamo con l'ultra white, basta una piccola quantità. Una volta applicato con la spatola utilizziamo sempre il pennello Smiley Line e iniziamo a creare la nostra French. Appoggiando il prodotto sulle pareti del cover pink con estrema facilità. Andiamo a creare la French e polimerizziamo per circa due minuti in lampada UV. Questa è la tip completa. Non necessita di limatura se il prodotto viene stesso bene, ma vi ricordo anche che ha un'estrema facilità anche per quanto riguarda la limatura. La nuova rivoluzione arriva in Brillbird. Seguite la nostra pagina Brillbird Italia o il sito www.brillbird.it. A presto e grazie ancora!